3 a 2 scandal team contro i disgraziati entriamo in impresa diretta proprio mentre il signor trinchillo ferma il gioco per un infortunio di ferranti si riprenderà con la palla che verrà restituita agli scandal ed è capitano prodomo che si appresta a rinviare corto per lello vitiello allarga il gioco verso michele iorio michele iorio alza la testa centralmente verso il fratello fermato il passaggio di ritorno ferranti nasti nasi può partire il contropiede buona la palla per ferranti il tiro la parata di prodomo ancora nasti nasti allarga il gioco ancora peluso fasi confuse di gioco e prodomo che si chiama il pallone in uscita buona parata di capitano prodomo che salva ancora il punteggio e permette ai suoi di mantenere il gol di vantaggio barone verso ferranti ferranti largo bene verso nasti nasti prova il tiro rimpallato da beluso fallo laterale in favore dei disgraziati nasti incaricato a battere questo fallo laterale da alessandro nasti centralmente iorio rimpalla ancora da alessandro il rimpallo e la palla che va in gol sul rinvio di michele iorio la palla sbatte sullo stinco di d'alessandro e capitola in porta ed è proprio così quindi 3 a 3 cambia di nuovo il punteggio una bella partita un match avvincente abbastanza equilibrato cerro lunga l'incorso a cercare direttamente il tiro dalla battuta il tiro rimpallato agli uomini posizionati al di fuori della del cerchio di centrocampo cerro abbattere il laterale seguiamo quest'ultima azione arretrato verso vitiello può calciare vitiello il tiro alto sopra la traversa l'alessandro corto verso nasti ci impalla la testa del signor trinchillo largo il gioco verso ferranti non ci può arrivare salita con una mano laterale per lo scandal team corto iorio per vitiello ancora vitiello punto l'avversario scarica largo verso iorio il tiro attenzione la palla chiesa atte proprio sullo stinco di massimo cero 3 a 3 nell'ultimo minuto di questa prima frazione di gara chiudiamo qui il nostro collegamento e ferranti il migliore in campo un 5 a 5 incredibile va emozioni a non finire sorpassi contro sorpassi alla fine un pari che ha scontentato praticamente tutti alla fine sì però vabbè dai abbiamo giocato bene siamo divertiti ho segnato al nostro camera penna e niente va bene così dai tanto ormai piano piano divertirci comunque a piccoli passi si prova a risalire insomma senti si poteva vincere secondo te cosa è mancato un po più la fase difensiva che avete preso gol alcuni anche purtroppo un errore del portiere su un tiro sul primo palo abbiamo fatto i primi due gol poi noi forsevamo molto quindi e poi anche loro vabbè si è pareggiato il gioco dici si è giusto così il pareggio va benissimo grazie vabbè